Continuiamo con i suoni, ma questa volta non è un rumore, è una voce, la voce di un uomo dal forte accento siciliano. Anche questo si eleva su altri rumori, altre voci, che rimbombano nell'aula di un tribunale. Mio Presidente, buonasera. Sono Bagarella Leoluco. Devo leggere una petizione, se lei mi consente. A nome di tutti i detenuti... Presidente, ma una cosa che inizia... Vediamo di che cosa si tratta, come un sterro. Vediamo di che cosa si tratta. No, proprio come un sterro, non è che stai facendo chissà che cosa. 12 luglio del 2002. Chi parla è Leoluca Bagarella, il boss Leoluca Bagarella, il braccio destro del capo della mafia Totò Riina. Leoluca Bagarella è in carcere all'Aquila, collegato in videoconferenza con la Corte d'Assese di Trapani, quando chiede di poter leggere un proclama indirizzato al Ministro della Giustizia, dottor Roberto Castelli. E' una protesta. Uno sciopero della fame contro il 41 bis, il regime carcerario duro a cui sono sottoposti i mafiosi. C'è qualcosa di strano in quel proclama. A nome di tutti i detenuti stanchi di essere strumentalizzati, umiliati, versati e usati come merce di scambio dalle varie forze politiche. I mafiosi sono stanchi di essere usati come merce di scambio dalle varie forze politiche. Strana frase, molto ambigua. E poi c'è un linguaggio giuridico perfetto, molto accurato, molto preciso. Corte Costituzionale, articolo 13, i numeri delle sentenze. C'è qualcosa che non torna. Il fatto è che questa mafia non sembra quella mafia là. La mafia che legge i proclami in aula non sembra quella che mette le bombe, che incenerisce e massacra poliziotti e magistrati. Eppure è la stessa. Il sottoscritto Bagarella Leo Luca, nato a Corleone, eccetera, eccetera, è sempre lui. Il braccio destro di Totò Riina, uno dei capi più sanguinari di Cosa Nostra. Per capire chi è Lucchino Bagarella, ci sono una foto e un aneddoto. La foto. Leo Luca Bagarella è in mezzo a sette carabinieri che faticano a tenerlo fermo. Siamo negli anni 70. Leo Luca è agli inizi della sua carriera, ma è già un latitante. È stato fermato per un controllo, mentre si trovava assieme ad una ragazza. Ed è stato portato in caserma. I carabinieri non l'hanno ancora identificato. Lui non vuole farsi riconoscere, non vuole compromettere la ragazza. E c'è quasi riuscito. È quasi uscito dalla caserma, quando nel corridoio incontra un maresciallo che lo riconosce. Ci vogliono sette carabinieri per riuscire a tenerlo fermo. L'aneddoto. Siamo nel marzo del 95 a Palermo. Leo Luca Bagarella è ancora latitante, ma non importa. Si muove bene lo stesso. In un bar incontra un amico che gli presenta un uomo. L'uomo è molto amichevole. Gli stringe la mano, gli offre un caffè. Quando l'uomo se ne va, Bagarella chiede all'amico chi sia quell'uomo. E l'amico gli dice che è il nipote di Don Masino Buscetta, un pentito. Ma come? Gli ha fatto stringere la mano del nipote di un pentito? Adesso, se non vuole essere ucciso, quell'amico deve correre dietro all'uomo e ammazzarlo. È così che muore Domingo.